Sono svenuto mentre ho trovato una skin speciale su StumbleGuys La mia ragazzanina è venuta subito a soccorrermi Fino a quando non ha scoperto che... Oggi scopriremo finalmente se sono il re delle girate di ruota su StumbleGuys Come faremo a scoprirlo? Voglio mettermi alla prova e dimostrarvi che riesco a trovare una skin speciale In soli 10 minuti su StumbleGuys Quindi avviamo il timer in questo momento E che abbiano inizio le nostre scioppate Non girerò la ruota speciale di ghiaccio Girerò proprio quella delle skin epiche E io troverò una skin speciale in 10 minuti Sì, sembrerò un mago, lo so Ma in realtà sono solamente la persona più fortunata del gioco Se anche voi volete trovare una skin speciale entro 10 minuti Dovete fare solamente una cosa Andare su Amazon, trovate i link in descrizione Oppure nella libreria vicino a casa vostra E prendere Nin e Matti La sfida contro il tempo stava già per uscire L'avete visto? Praticamente è questo l'effetto che fa Mentre voi tenete in mano il libro Subito la ruota si avvicina verso la skin speciale Proprio come è successo prima All'interno del libro troverete anche dei fantastici tatuaggi Che potete farvi Che porteranno doppia fortuna su StumbleGuys Vabbè dai, a parte gli scherzi Trovate il libro in libreria, eh Va bene, va bene La prima girata di ruote è andata così Ma tanto, guardalo Guardalo, guardalo Spataclamba E subito altre 10 La girata di ruota delle Omatison Che sta per trovare una speciale on Intanto leggendaria Intanto leggendaria Ninja Kai che nemmeno avevo in questo account Tra l'altro lo sapete chi è Ninja Kai, vero? Lo sapete chi è Ninja Kai? È la skin che mi mancava Per completare tutte le skin di StumbleGuys in un solo video Sì, esatto, in questo video ho trovato tutte le skin di StumbleGuys E mi mancava solamente quella Speciale, 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 speciale Oh, ancora niente Vabbè dai, tanto abbiamo ancora un sacco di tempo Nessun problema per me Ecco, l'unico problema potrebbe essere Quello che non mi ci sto nemmeno avvicinando io alla skin speciale Questo potrebbe risultare un problema leggermente Cioè, non mi sta comparendo proprio la skin speciale Oh, ma che sta succedendo? Ho deciso di aggiungere un po' di piccante A questa sfida Infatti, se vincerò questa partita Avrò 5 minuti in più per il timer Per trovare una skin speciale Ma se perdo In questo momento i minuti Da come vedete Stanno scorrendo, eh I minuti stanno scorrendo Questo significa che Questa partita in realtà Mi sta facendo perdere tanto Tanto tempo Quindi devo sfruttarla bene Se no La possibilità di trovare una skin speciale Diminuirà ancora e ancora Io cerco di sfruttare il trick Sembra andare abbastanza bene Sto andando benissimo Dai, questa Almeno il primo round Dovremmo Mi ha dato un pugno Che schifo Mi ha dato un pugno Non ci credo Ok Vai Eh, alla grandissima Vabbè 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 Mi meritavo di arrivare prima Guarda quello che dai cazzotti Vediamo che mappa esce Io ho bisogno di questi minuti E poi sbrigati gioco Non vedi che il timer sta ancora continuando No, il calcio no No, io perdo sempre nel calcio Non ci credo Vabbè, vabbè, vabbè Io ero giocato pure a Rocket League Quindi può darsi che ho un pochino più di Ok Ok, aspetta che forse faccio subito gol 1-0 per noi Attenzione che forse la situazione è migliore del previsto Migliore del previsto Inseguiamo questa palla 2-0 per noi Vabbè, stiamo andando alla grande Vabbè, stiamo andando alla grande Tiriamo questa Dai No, 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 no Ci stanno recuperando Aspetta Bravissimo Bravissimo Vai Vai Che segno io No Ho preso palo Tutte le porte sono qui Comunque siamo Siamo letteralmente devastanti i nostri nemici Vai, 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 vai No, 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 no Dai 4-0 Sì Easy Manca solo un minuto Anzi Ancora un minuto manca Aspetta, aspetta Che qua dobbiamo andare un attimo in porta a difendere Lui mi vuole dare il puglio L'ho parata No, è entrata in porta comunque L'avevo paratissima Attenzione Mattiz Il tiro di Mattiz Vado, vado Vabbè, 5-1 Mi sa proprio che questa la vinciamo 6-1 E tutto il giorno Tutto il giorno così Stai giocando da staglina Matti 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 Ehi Matti, aspetta Il pronto soccorso Ma forse Questo è il record di gol Fatti in una sola partita Stiamo vincendo 11-2 Dai che sono in finale Lascia un mi piace E iscriviti al canale Di Matti In questo momento Se vuoi trovare anche tu Una skin speciale In soli 10 minuti Spero funzioni Eh, io non ho la sicurezza Però fate sto esperimento Oh no Super slide Io non vinco mai Super slide Faccio schifo Va bene, va bene Ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo Vai Ecco, ecco Vedi, sono già stato colpito Mannaggia Vado Vado, 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 vado Ok Eh, ora dobbiamo recuperare Ora dobbiamo recuperare Sono tipo Messo malissimo Vola Matti Io non conosco nemmeno i trick Non conosco nemmeno i trick Uh E invece ne ho appena fatto tipo uno Ne ho fatto mezzo Dai, facciamo che ne ho fatto mezzo Eccolo Mamma mia Eh, ma ti son si vuo Eh, ma quello non lo recupererò mai Non lo recupererò mai Dai, dai, dai Posso recuperare qui Però posso recuperare qui No, ho sbattuto al muro No, ho sbattuto al muro Ragazzi, non solo uno davanti Non solo uno davanti No, 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 no No, sono arrivato praticamente secondo Bene, adesso inizia ufficialmente La corsa verso la skin speciale Sì, 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 adesso la corsa Non questa, ma di questa Inizia ad essere molto, molto più problema Perché ho meno tempo e ho sprecato La mia unica occasione per avere 5 minuti più Sì, sì, sì Sì, sì, sì Skin speciale, non ci credo Non ci credo, non ci credo Ok Credo di aver urlato abbastanza, in realtà Ho trovato la skin speciale Matti, ma smettila Di urlare, per favore, sto leggendo Mamma mia, tutto il giorno Tutto il giorno così Batta a giocare, stai giocando da stamattina Hai capito? Oh, finalmente E poi sistema un po' qua Matti? 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 Ehi, Matti, aspetta Matti? Matti, sei svenuto? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Matti? Mi senti? Oh no, devo chiamare la murata Devo chiamare il pronto soccorso Come si sblocca il tuo telefono? Fai qualcosa? Aiutami! E la password è 0, 0, 0 Ah 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 Quanto dimentico ti prego Cavolo ambulato Sia fatte, fatte, fatte Ma l'avete sentita? Si, l'avete sentita? Si, scusate se gli ho fatto spaventare Ma avevo organizzato questo scherzo Da giorni Dovevo farlo per forza Dovete sapere che una cosa Che inna odia È sentirmi quando io gioco ai videogiochi Perché io urlo, ok? Quindi ho urlato così forte Beh, da farla venire in camera Ma poi il piccolo scherzetto è stato attuato Ma l'avete visto che faccia che ha fatto? Comunque, non so se ve ne siete accorti Ma ho trovato questa skin speciale In meno di 10 minuti davvero Io non ci posso credere che ce l'ho fatta Sto sognando forse Sono riuscito a fare un mega scherzo Alla mia ragazzarina E contemporaneamente sono riuscito pure a trovare una skin speciale Questa è la giornata più bella della mia vita No, ma poi scusate Possiamo per favore vedere il momento in cui Ninna si è accorta Che io sono svenuto Replay Ma chi? No, vabbè, è pazzesco E io adesso vi dimostrerò pure che vincerò una partita con questa skin No, non finisce qui, eh Ok, stavo scherzando La partita l'abbiamo persa Alla grande in realtà Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace Per un altro scherzo a Ninna Ciao 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 Grazie a tutti.